Amaglio Di Stefano, la storia della Sea-Watch finisce qui con questi 47 che alla fine sbarcano in Europa. Posso immaginare la loro gioia e ora dobbiamo chiederci che cosa sarà di queste persone. Di Stefano. Intanto mi faccio dire una cosa, la Croce Rossa è al porto perché ovviamente è normale che sia così, ma i migranti come tutti quelli che arrivano sulle acque italiane sono stati accuditi fin dal primo giorno, hanno avuto assistenza medica, sanitaria, cibo, acqua e tutto, quindi non c'è più nessuna emergenza. L'unica emergenza ora è verificare le condizioni di salute come tutti quelli che entrano sul nostro territorio nazionale. Per questi migranti ora grazie alla determinazione del governo italiano che a ogni battello sta indicando verso l'Europa l'unica soluzione possibile, quella della suddivisione del carico, verranno quindi ridistribuiti verso i nuove paesi che hanno accettato di prendersene una parte. ovviamente l'Italia e il governo ovviamente dal primo giorno ha tenuto un occhio di riguardo per i vulnerabili e quindi in questo caso i minori, perché fortunatamente non c'erano né donne incinte e nemmeno persone diciamo malate, però i minori che ci sono saranno diciamo la quota che l'Italia terrà e gli altri verranno ripartiti verso i nuove paesi che hanno accettato. Ancora una volta, al di là del grande chiacchiericcio, il governo riesce a ottenere quello che ha chiesto, una vera condivisione europea. Poi sono d'accordo con lei, ora il difficile è appunto ridistribuirli fisicamente, però ormai diciamo che abbiamo fatto abbastanza esperienza. Ora torno da lei Di Stefano, però De Vanzoni, un conto sono le parole, un conto sono poi i fatti dei nostri partner europei o anche della nostra relativa incapacità di fare rispettare questi patti, perché l'ultima volta comunque poi non se li sono presi. L'ultima volta sì, ci fu addirittura, stiamo parlando della nave 18, per esempio. Nella nave 18 ci fu addirittura una fuga, furono presi da strutture del Vaticano e poi da lì vennero lasciati andare, si sono dispersi per l'Italia, alcuni saranno clandestini, qualcuno sarà riuscito a passare il confine clandestinamente. È un problema grosso, è un problema gigantesco, il problema è che non possiamo farci imporre la politica immigratoria da delle società private come le ONG. Cioè, per essere chiaro, arrivo Di Stefano, ora parliamo anche di questo, però per essere chiari, cioè se il Vaticano o la Chiesa Valdese o qualche altra struttura che non è lo Stato italiano ci dicesse, non vi preoccupate, ce ne prendiamo in carico noi, dovremmo fidarci, no, perché l'ultima volta sono scappati e allora noi dobbiamo essere certi che poi la struttura che li prende in carico non chiude un occhio rispetto alle intenzioni di questi migranti di andare. Sì, questo caso specifico dovrebbero andare all'estero, per cui il problema non si pone, o meglio, si porrà nei paesi che li accoglieranno, sette mi pare che siano. Altrimenti sì, certo che si pone il problema, perché questi hanno uno Stato giuridico molto particolare, che non è di prigionieri ovviamente e quindi i gestiti in un centro dello Stato, magari i nuovi centri che stanno allestendo questo governo sarebbero controllati, affidati a privati o a organizzazioni umanitarie, la risposta che ti danno è che noi non siamo dei guardiani, questi sono liberi di andare. Quindi dobbiamo a sto punto di questi 47 che sono diciamo simbolici ovviamente, prendercene in carico noi fino a quando non andranno all'estero. Di Stefano, mi interessa un passaggio, lo scriveva anche Madala nel pezzo che abbiamo sentito stamattina, la nave avete deciso di mandarla a Catania perché lì la procura la sequestrerà? Questo io ovviamente non lo posso sapere perché non è materia di cui mi posso occupare io. Però fa parte del governo diciamo. Ho capito, però queste scelte le fa la procura, non le faccio io. Io mi auguro che venga sequestrata perché ha ragione il direttore della verità di studio, siamo davanti a una chiara violazione quasi anche provocatoria da parte dell'ONG, della watch, perché siamo davanti a una ONG tedesca su una nave che batte bandiera olandese, che recupera dei migranti a largo delle coste libiche e anziché puntare, visto che c'è il mare Forza 7 a Tunisi che è a 40 miglia, punta in Italia che sono 200 miglia nautiche, facendosi carico di una responsabilità enorme che poteva anche succedere un disastro. E allora siamo di fronte a una chiara provocazione col tentativo probabilmente di avere più gloria arrivata sul nostro territorio, perché chiaramente il chiacchiericcio che c'è in Italia tra le opposizioni, la stampa e il fatto che ovviamente ormai l'immigrazione è un caso in Europa porta sicuramente maggiore consenso, poi ovviamente i grandi leader delle ONG tipo Gino Strada e gli altri fanno eco a questa gente e chiaramente gli dai clamore. E questa gente alla fine finisce per collaborare con i praticanti di uomini. Allora do il benvenuto anche ad Alan Friedman che ci ha raggiunto qui in studio, collega giornalista, buongiorno. La Sea-Watch va sequestrata secondo te? No, no, io sono a favore, come credo tutti, della legge, cioè la legge dice nei trattati internazionali che in America o Germania o Italia quando c'è un profugo di guerra o qualcuno che cerca asilo, che cerca di sopravvivere, la legge richiede che si fa entrare nel paese, non si sequestra. Io credo che... Ma questi non sono profughi di guerra. Non è vero, non è... Questa legge non esiste. Se posso finire, che siano profughi o che siano quelli che stanno per chiedere asilo in un modo o l'altro, il punto vero è che al di là delle leggi siamo esseri umani, giocare con le vite umane per scopi elettorali, per fare crescere consenso elettorale, è un gioco della destra estrema popolista in tutta l'Europa e anche nel mio paese. Donald Trump nel mio paese ha creato una invasione che non esiste a Messico, ha mandato l'esercito lì, ha fatto la voce grossa, invece la realtà è che ci sono meno e meno in tutti. Pure qui, non c'è una invasione qui. De Manzoni e poi Di Stefano. Nel suo paese anche Obama costruiva i muri, si vantava di averlo allungato da 70 miglia. Restiamo un attimo in Italia, per esempio, su questa vicenda della Siuola. Su questa vicenda le questioni sono molto semplici. Bisogna stare con la legge e non si governano i paesi né le comunità con i buoni sentimenti. La legge dice delle cose precise. Questa ONG doveva coordinarsi con i responsabili di quell'area per fare il soccorso. Salvini, Salvini. No, 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 non è un problema di Salvini, questo è un problema di una ONG. E' lui che fa questo spettacolo. No, 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 non è Salvini, il Consiglio europeo di giugno scorso diceva esattamente questo, bisogna impedire che le ONG finiscano per essere il tramite tra gli trafficanti. Non c'erano bambini, non c'erano donne e nessuno giocava con le vite. Stanno benissimo, il problema più grosso che hanno avuto su quella nave è la visita dei parlamentari italiani. La nave va, salva giustamente persone che stavano naufragando, è in acque internazionali, l'Olanda gli dice va in Tunisia, perché sono venuti in Italia, Friedman? Ma Italia è il paese più vicino a Malta, Italia sono i due paesi. Ma Tunisia? Italia, Tunisia, Malta, sono tutti, siamo nel Mediterraneo. E vengono tutti da noi però. Il problema, io non difendo l'Europa, l'Europa ha sbagliato, l'Europa ha molato l'Italia in questi anni, il Doblino non ha funzionato, è vero che bisogna rinegoziare, bisogna rinegoziare la cosa. Il problema è che abbiamo un voto a maggio, diciamo le cose in modo chiaro, ci sono i politici di destra e sinistra in questo voto, quelli di destra, cioè Salvini e Company, imitano Trump, fanno mini Trump, cercano di fare un copio in collo del grido di Trump. C'è un'invasione, non c'è un'invasione. Il problema in Italia non si chiama immigrazione, si chiama integrazione. Ma abbiamo all'orizzonte la Sea-Watch che sta arrivando proprio al porto di Catania, non so se riuscite a vederla anche da casa nel vostro schermo. Agnese, è quella la Sea-Watch? Francesco, Francesco, sì ci siamo spostati per farvi capire, ecco la vedete all'orizzonte? Qual è quella più alta, quella più grossa? Non so se l'operatore può inquadrare. No, è quella più piccola, quella davanti. E quella più grossa poi accanto ovviamente è scortata. Quella davanti, non quella grande, quella... Esatto, questa qua che sta avanzando. Riesce ad inquadrarla, perfetto, sì, 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 ci diciamo che si trova infatti a circa tre miglia da qui, ci siamo spostati per mettere alla camera comunque di inquadrarla, insomma, per rendere l'idea della distanza. Eh, quindi diciamo che tra circa un quarto d'ora, venti minuti dovrebbe essere alle porte del porto. Di Stefano, le posso far leggere un messaggio che ci arriva da casa? Sì. Susi, come al solito l'Italia ha calato le braghe. Sì, vabbè. Questa è la classica esasperazione legata a una comunicazione errata. Io però vorrei prima partire da quello che ha detto Friedman. Friedman, io capisco che lei è un economista e non vuol dire che ne debba sapere qualcosa di diritto del mare e di legge e di diritto dei rifugiati, ma lei ha detto una serie di cose che non stanno né in cielo né in terra. Uno, è tutto dimostrabilissimo. Uno, se tu recuperi a largo delle coste libiche il porto più vicino è Tunisi, non è l'Italia. Questa nave in particolare ha scelto di fare 200 mila, 200 anziché 40. Due, la legge li obbliga a coordinarsi con la capitaneria di porto libica, che era lì di acqua territoriali e non l'hanno fatto. Tre, batte bandiera olandese, quindi non deve venire in Italia. Quattro, noi abbiamo l'unico obbligo, secondo la Commissione dei diritti umani di Strasburgo, la Corte dei diritti umani, di prestare assistenza ai migranti a bordo, non di farli sbarcare. Queste sono leggi, leggi. Poi lei mi può dire che lei pensa che sia giusto farli sbarcare tutti in Italia a prescindere, questo è un problema suo, noi dobbiamo fare la legge nell'Italia e far rispettare il popolo italiano. Il punto suge a Di Stefano. Grazie per l'intervento del sottosecretario alla Farnesina, lo stesso che se non sbaglio vuol ritirare i truppi da Afghanistan e appoggiare Maduro e Venezuela, che sono posizioni... Ma perché? Perché continua a dire sciocchette, Friedman? Il governo in questo momento sta giocando con le vite umane, è l'ennesima volta. La questione non è, io sono ben consapevole delle leggi, sono stato addirittura in liceo io ero sulla delegazione americana, poi mi sono laureato e ho messo la sua politica estera molto bene, non si preoccupi. Di Stefano, un secondo che voglio far... Dica a Friedman di dire cose che... Scusi Di Stefano, però stiamo cercando di parlare una volta e lascio a Friedman la possibilità di esprimere la sua opinione. Dice che le sfugge un punto e voglio capire qual è il punto che sfugge... Dico, gli italiani che io conosco e amo sono italiani che hanno cuore, che non giocano con bambini e donne e non giocano con le vite umane. Un politico che si presenta in divisa in Parlamento e vuole fare un uomo forte e si comporta con questa demagogia di destra estrema, secondo me... Ma cosa c'è questo? Ma campagna elettorale. Ma campagna elettorale. De Manzoni, De Manzoni... Abbiamo una pazzia. Intanto non c'era né una donna né un bambino su quella nave. Intanto ce ne siamo presi a rate di 180 mila all'anno. All'anno sono arrivati qui. Dopodiché, sai cosa succede quando arrivano qui i Friedman? Succede quello che succede, abbiamo visto in queste inchieste negli ultimi tempi. Al Cara di Mineo c'è la mafia nigeriana che gestisce la prostituzione. Abbiamo il caporalato che vengono sfruttati come schiavi. Ci abbassano anche il livello, ovviamente, dei salari in Italia. Hanno creato un sistema. E perché queste ONG continuano ad andare avanti? Perché sono parte di una catena, di un ingranaggio e vogliono forzare il problema perché vogliono continuare con questa politica. ma è una politica fatta da affaristi, trafficanti. E' questo che deve fermare. Questo va benissimo. Questo lei può dire. Altro che i buoni sentimenti. Nessuno Stato si governa con i buoni sentimenti. I buoni sentimenti sono delle persone che sono le teneviste. Noi abbiamo assistito questa nave, nel senso che in questi giorni abbiamo mandato... Prima la tortura, poi l'assistenza. No, il punto è questo, parliamo di economia. Ne abbiamo torturati, che sono rimasti in nave. L'Italia trade grossi benefici, come tutti i paesi, dai immigranti regolari. Il problema sono quelli clandestini, non c'è dubbio. Ma quelli regolari contribuiscono quasi al 10% del PIL, pagano le pensioni dei nostri figli, fanno contributi all'Inps. E questo è un bene dell'immigrazione. Il problema è che in Italia, come in altri paesi in Europa, non siamo abituati a vivere con persone che non sono bianche. Di Stefano, ora quella nave che vede all'orizzonte nelle nostre telecamere sta per arrivare. Sono 47 uomini, ragazzi, qualcuno potrebbe essere minore, qualcuno no, però nessuno ha i documenti. Come li identifichiamo? Quanto tempo ci mettiamo per identificarli? Come facciamo a sapere da dove vengono? Chi sono? Dobbiamo fidarci di quello che ci dicono loro? No, no, ci sono delle procedure rodate, ovviamente. C'è una commissione territoriale che li intervista, con degli esperti che fanno le domande giuste, capiscono se dicono il vero o meno, e riescono a identificare. È una procedura che facciamo da 20 anni su 180 mila persone ogni anno, quindi siamo abbastanza esperti su questo. Ma poi vengono ridistribuiti. Però, ripeto, qui una cosa che io vorrei far capire in modo chiaro, perché noi non ho nessun interesse a fare la guerra con Friedman. Friedman ha un problema con Salvini, a me non interessa Salvini, a me interessa risolvere il problema migratorio, che è un'altra storia. Per me il clandestino, che sia nero, bianco, cioè nigeriano o statunitense, non mi cambia nulla. A me interessa che chi viene sul territorio nazionale sia una persona in regola, o che se scappa da una guerra ci siano... Questo è importante, Friedman, sono certo che lei è d'accordo su questo. Ma andiamo d'accordo su questo. Su questo siamo d'accordo. Io voglio che chi scappa da una guerra possa venire in Italia prendendo un volo, perché c'è un accordo bilaterale che gli permette di farlo. Questo per me è santo. Chi scappa dalla guerra non prende il volo. Sacro santo. Spenda di meno quando nel volo. Lei, Friedman, come quelli che sostengono questa tesi del dobbiamo tenere porti aperti, eccetera, eccetera, non fate finta di non capire. Non c'è niente di porti aperti, ho detto... No, lei mette l'umanesimo come tassello. Io sono d'accordo. Mi faccia dire solo questo e basta. Le do la parola subito. Mi faccia chiedere una cosa. Fate finta di non capire che questo buonismo legato alle ONG a prescindere porta ad aiutare i trafficanti di esseri umani. Quella è criminalità, non è politica. C'era una volta, fino a... Voglio essere chiaro, c'era una volta in Italia, come altrove, fino a giugno 2018, quando le ONG e Gino Strada erano rispettati, perché erano persone che aiutavano i poveri nel terzo mondo, e questo è positivo. Io rispetto per Gino Strada. Io non credo che le ONG sono dei affaristi che fanno dei complotti. Io credo che abbiamo... Scusa, abbiamo una crisi di migrazione a livello mondiale. È un problema che richiede un intervento internazionale. L'Europa ma l'Italia, vero. Ma in Italia, come in Ungaria, come con la Pena in Francia, politici come Salvini di destra estrema sfruttano il problema produttivo elettorale. Fridman, ti faccio una domanda io, voglio farti una domanda io. Ma tutti sfruttano i seguiti elettorali, perché i parlamentari che vanno su e giù dalle navi non li fanno... Infatti, infatti, lasciamo un attimo fuori. Agli italiani interessa una cosa, però. Agli italiani interessa una cosa. Agli italiani interessa credere da questo governativo. Mi interessa una cosa. Perché stiamo in recessione? Bisogna dire che le ONG fanno un lavoro sporco. Mi interessa una cosa, Fridman, se noi accogliamo tutti come abbiamo fatto in questi anni, con i porti aperti, con una politica umanitaria che ci sarebbe valsa il Nobel per la pace, per le fitte che abbiamo salvato, l'Europa non si fa viva con noi. Se noi lasciamo una nave fuori per una settimana... Ma lei è un propagandista, non ho capito. Io dico la mia opinione perché i miei ascoltatori... Non sei d'accordo che in questi anni abbiamo salvato tante vite umane? Io sono d'accordo che Miniti è riuscito nel governo Gentiloni a stoppare il 85% e ridurre il flusso dei migranti pagando tangenti a milizie in Libia. È una situazione tragica. Ci sono dei lagri in Libia. Io credo che l'Europa deve cooperare e fare qualcosa. Ma se Salvini boicotta ogni riunione europea, come ha fatto negli ultimi sei mesi, dalle ministre... Cioè, lui dice che dovrebbe andare là e non fare queste operazioni. Bisogna parlare con l'Europa per cercare di trovare l'assoluto. E dei lager turchi della Merkel che stiamo pagando noi non parliamo neanche di quello. Merkel ha pagato 6 miliardi dei nostri soldi ai turchi e di quello non si fa. E la brutta realtà funziona. Grazie Massimo De Manzoni, direttore della Verità. La nave sullo sfondo la continueremo a seguire. Alan Friedman, il suo libro in uscita, anzi è già uscito ma è stato rinnovato. 10 più 2 cose da sapere sull'economia italiana. Ecco la copertina. Perché siamo in recessione? Siamo in recessione per due motivi. Il motivo più importante è che c'è un rallentamento globale dell'economia che parte dal mio presidente Trump che con le sue guerre commerciali contro la Cina ha creato una mancanza di fiducia e ha rallentato la crescita in tutto il mondo. Numero 2, siamo in recessione perché è un problema di congiuntura e tutta l'Europa sta rallentando. La Germania ha dimazzato le sue stime da 2,1% per quest'anno. Quindi c'è un problema internazionale. Numero 3, siamo in recessione perché c'è stato un aumento nel costo del debito pubblico. Lo spread a 2,50 costa il doppio di un anno fa. Gli italiani pagano diversi miliardi all'anno di interessi aggiuntivi sul debito che può vanificare tutto il reddito di Cina. E questo è il più 2 che hai aggiunto? Sono due capitoli sul governo giallo-verde. Non piacerà al nostro amico Di Stefano ma un capitolo si chiama La banda del buco e descriva l'incompetenza nella materia economica di questo governo perché il mio parere è che un governo che danneggia le piccole imprese, che fa disincentivi al lavoro, che dà assistenze sociali ai furbi che possono lavorare in nero, è un governo che non sta aiutando l'economia. Allora questo è 10 cose più 2 da sapere sull'economia italiana di Alan Friedman, Maglio Di Stefano naturalmente lei non sarà d'accordo ma abbiamo tante altre occasioni per parlarne. Grazie anche a Massimo De Manzoni. La verità, ci vediamo tra poco.